Mia madre pensa che con me... Che cos'è? Può fare quello che vuole, che sono il suo cagnolino. Elsa, dammi la zampetta da brava, mangiati la tortilla. È convinta che io voglio essere come lei? Io le voglio dimostrare che non è così. E che l'aspetta una sfida, che con me non ce la farà mai, non ne ha idea. È stata Elsa a cancellarmi il lavoro. Ha intenzione di riportarlo a casa. Non avevamo detto che se ne sarebbero occupate le sue odre. Mi scusi, parla del bambino dell'incidente? Sì, come sta? Elsa! 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 Tu non vuoi ucciderti. Vuoi solo spaventarla, la vuoi punire. Perché? Guarda tua madre. La gente crede che dopo il parto tua figlia continui la propria vita. E tu la tua, ma non è vero. Sua figlia ha un'alterazione della propria immagine. So perfettamente che cosa... Madre perfezionista, figlia perfezionista. Allora rispondimi. Da quando non ti importa più di te? Non me lo ricordo. Sai che è la prima volta che mi regalano dei fiori? Posso aspettarti quanto vuoi. Mio marito è qui. Io questo non me lo perdonerò mai. Per un figlio si fa qualunque cosa. Per un marito dipende. Sembra che tu abbia bisogno che essa sia amata per avere qualcosa da fare. Ma perché l'hai portata in questo posto? Chi era il più vicino. Che è successo? Come stai? Portami via da qui, mi trattano male. Che ha fatto mia figlia? Sua figlia è una psicopatica e dovrebbe imparare a controllarci. Sono felice di diventare madre. Voi avete dei figli? Sì, ma non sono più felice. Mia madre mi disse che la cosa migliore per entrambe era darti in adozione. Non mi piaccio, non li abbraccio. Arrabbiati pure perché a me piacciono. Se vuoi parlare lo facciamo da soli come fanno marito e moglie. Ah, ora ti ricordi che siamo sposati. Perché non gli hai detto la verità? Oggi ci sarà una pioggia di stelle. Puoi esprimere un desiderio. Il sorriso di un figlio è come una droga. Le madri fanno qualunque cosa per vedere i figli sorridere e tu sei diventata una drogata di Elsa. Lei ne è consapevole e ti prende in giro. Una prima assoluta. Che disastro di madre. Madri. Una vita d'amore. La nuova serie di Mediaset Infinity. Mercoledì 21 giugno in seconda serata su Canale 5.